L'onorificenza che mi è stata attribuita è per me un grande onore, una grande gratificazione per il lavoro svolto in 30 anni, soprattutto negli ultimi 30 anni. Chiaro che questa è un'onorificenza attribuita alla mia persona, ma che premia il lavoro di tutti i miei collaboratori in azienda, quindi io lo ritengo un riconoscimento per quanto è stato fatto e il risultato del lavoro dell'azienda. In questi voglio sottolineare l'apporto dei giovani che per noi sono fondamentali, sono loro che attraverso loro guardiamo al futuro, siamo presenti in molti paesi all'estero. Quindi la preparazione dei giovani nei diversi settori, nei diversi ambiti è un aspetto fondamentale, strategico per lo sviluppo delle aziende ed è uno dei versanti sui quali noi investiamo in maniera molto significativa, non solo per trovare giovani capaci di affrontare le sfide dei mercati, ma anche per essere più competitivi come azienda.